Se voi cliccate il mio nome su internet mettete Marcello Stanzione esce sotto Marcello Stanzione esorcista però vi devo dare una grande delusione io non sono esorcista nessun vescovo mi ha mai nominato esorcista come mai esce esorcista esce esorcista perché siccome io ho cercato di scrivere un po di libri sugli angeli buoni e facendo tante ricerche ho trovato anche materiale sugli angeli cattivi certo punto mi dispiaceva di non utilizzare questo materiale io non sono un intellettuale sono un divulgativo cerco di estendere a quante più persone le conoscenze di base no? Allora mi dispiaceva che questo materiale sui diavoli non venisse utilizzato per cui ho fatto una trentina di libri forse di demonologia ho fatto un libro su l'esorcista padre Amort l'esorcista come si chiama quello che stava la scala santa cantito Amantini ho fatto un libro si esorcisti eccetera eccetera quindi tanti miei libri si intitolano l'esorcista tipo uno l'esorcista quasi centenario che adesso è diventato centenario un libro di tre quattro anni fa per cui ci sta questo fatto no? Don Marcello stanzione esorcista io sono un semplice parroco di campagna faccio le preghiere di liberazione di guarigione interiore come tutti i preti possono o potrebbero fare anche perché voglio dire il problema c'è il problema è reale no? Oggi parliamo tanto di emigrati no? però ci dimentichiamo che è tutti questi che sono maleficati fatturati maledetti ossessionati questi non esistono è una folle enorme di persone allora fin da giovane ho sempre fatto queste preghiere queste benedizioni però chi cerca l'esorcista si rivolge a me dico senti io non sono esorcista non faccio esorcismi a parte il fatto che gli esorcismi no? servono per i posseduti e i posseduti non sono tantissimi la maggioranza delle persone delle persone che hanno disturbi spirituali hanno problemi di infestazione di ossessione no? eccetera eccetera allora qualche anno fa una bella ragazza di Napoli una professoressa vide su internet Marcello Stanzione esorcista e pensando che io ero esorcista venne da me in parrocchia apro parentesi ogni tanto io faccio la battuta dico meno male che io ho fatto tanti libri intervistando gli esorcisti e quindi esce Marcello Stanzione esorcista e se avessi fatto i libri intervistando i gay sarebbe uscito Marcello Stanzione gay oppure avessi intervistato i camorristi Marcello Stanzione è camorrista quindi vedete che internet tante volte non dà delle informazioni chiare vabbè vabbè allora questa ragazza pensando di incontrare un esorcista venne da me io e mi raccontò la sua storia lei era figlia di una fattucchiara si dice fattucchiara fattucchiere come si dice fattucchiere lei e la sorella quando erano bambine e la mamma la mandava nelle case a portare le fatture perché furba no? e chi è che può pensare che delle bambine di 8-9 anni vanno nelle case a portare le fatture eccetera eccetera però rimane il fatto che la mamma si serviva delle figlie rimane il fatto che le figlie sono disturbate spiritualmente quindi era venuta da me per un esorcismo io dissi senti esorcismo non te lo posso fare però ti faccio una preghiera una benedizione se ti sta bene le disse di sì iniziamo a fare la preghiera questa ragazza va in trans e incomincia a dire parolacce mi vuole sputare in faccia eccetera eccetera siccome quella sera è una sera come questa mi ero molto stancato e dissi la fece uscire dalla trans e dissi senti figliami io sono stanco morto tu effettivamente se ti butti addosso e mi picchi mi fai nuovo nuovo perché non tengo neanche la forza di difendermi talmente che mi sento stanco ok vi si fa una cosa la settimana prossima ritorna a campagna perché noi a campagna centro abbiamo la famosa colonna di santa antonino non so se l'avete mai sentito nominare no è una colonna taumaturgica dove dove per secoli e secoli sono stati legati i reali o presunti indemoniati ecco perché a quella colonna santa antonino che è il nostro patrono di campagna ma anche di sorrendo lui si flagellava per vincere le tentazioni del diavolo ok quindi una colonna che è una grande reliquia la ragazza la settimana dopo ritornò con degli amici andiamo a campagna alla chiesa di santa antonino lì l'altro sacerdote si chiama don carlo un santo sacerdote neanche lui ha la nomina di esorcista lui dice che anche lui fa le preghiere poi è santa antonino che fa da esorcista vedete questo è fondamentale nel viaggio dell'eroe voi potete trovare dei preti bravi dei preti cattivi dei preti che fanno gli esorcisti però vi voglio dire alla fine i veri esorcisti e gesù i santi la madonna san michele arcangelo e quindi bisogna sempre innanzitutto rivolgersi alle potenze dei cieli quindi tante volte noi cerchiamo tra virgolette l'esorcista o il carismatico come se fosse un santone ma chi decide sono quelli del piano superiore allora iniziamo a fare questa preghiera di liberazione con l'altro sacerdote dopo pochi minuti la ragazza va in trance incomincia a gridare incomincia a dire ho convinto tutti nella chiesa ma lo dicevo con una voce tremenda non era la sua voce che io non esisto avete capito che io non esisto io non esisto ho convinto tutti nella chiesa che io non esisto e poi ci fece uno sguardo storto disse i preti non devono fare gli esorcisti devono fare gli psicologi cioè voleva dire che questi che vanno dagli esorcisti sono tutti fissati è chiaro che c'è una certa quota scusatemi di fissati eh che però poi quando si spostano diventano spostati fissati è spostati quando girano eh però buona parte di queste persone che vanno dai carismatici dagli esorcisti dai preti che fanno delle semplici preghiere benedizioni eh sono persone che già prima sono stati da tanti medici sono stati dagli psicologi sono stati dagli psichiatri quindi si è fatto discernimento serio e c'è una malattia spirituale c'è un motivo preternaturale e il demonio attraverso la bocca di questa disse io ho convinto quasi tutti che io non esisto per cui oggi non si parla più né di diavoli né di angeli ok non si parla di angeli come ho detto ieri gli angeli non esistono sono generi letterari ma dov'è che si vuole andare a parare se l'angelo non esiste non esiste neppure il diavolo perché il diavolo da dove viene viene dagli angeli angeli ribelli quindi se non esiste san michele non esiste neanche il diavolo che sta sotto i piedi di san michele e questo gesù cristo che va nel deserto che combatte con il diavolo e combatte contro la sua immaginazione no cioè alla fine non è vero niente quindi gesù cristo è venuto dice il vangelo a sconfiggere il potere delle tenebre ma odiavano non esiste sotto tutte fissazioni della gente ok per cui i poveretti che hanno problemi spirituali a parte il fatto che è difficile che trovano degli esorcisti ma poi se li trovano sono preti anche vecchi 60 70 80 anni o berati di lavoro per cui tante volte ti possono fare una preghiera veloce e quindi ci sta una doppia solitudine la solitudine delle persone ammalate e la solitudine che sei un po abbandonato come mai tante persone vanno da pino sciarrino perché lì è proprio la clinica spirituale del signore c'è pino che non è un prete sposato già due figlie e un carismatico perché il signore gli ha dato questo carisma potente di liberazione no è lui veramente uno che si dedica anima e cuore a questo ministero io tante volte vado da lui vedo la mattina presto alle 8 alle 8 lui già da un pezzo dopo che hanno celebrato la messa sta ricevendo le persone fino all'ora di pranzo poi ritorna pomeriggio e adesso qui ha ricevuto 300 persone don marcello avrà confessato 30 persone 40 persone forse 50 persone sono stanco morti sui 300 persone che ha ricevuto no veramente ha un dono potente di dio ma poi la cosa bella che lui gira sabato e domenica dove i parroci lo invitano perché lui dice che tante persone non possono andare lì da lui perché è lontano perché non c'è l'albergo allora cerca lui di avvicinarsi eppure questo è da apprezzare perché dopo una settimana di duro lavoro di impegno sabato e domenica potrebbe stare con la sua famiglia a riposarsi no invece dice lui tante volte sabato e domenica gira quindi dobbiamo pregare per queste persone ecco lui lì da solo farebbe poco o niente per quanto c'è il carisma c'ha 70 80 persone coinvolte come volontari quando lì si fa la messa con le preghiere di liberazione diciamo le persone tra virgolette normali sane normali voglio dire che non hanno malattie spirituali no che gli altri che ce l'hanno sono anormali no ecco stanno nella chiesa grande e poi ci sono diverse salette dove a seconda della gravità ci sono le varie persone disturbate quando si fa l'adorazione poi il sacerdote va nelle salette effettivamente è raccapricciante quello che vedi persone che ci vogliono 7 8 persone che li mantengono gente che sputa verso il santissimo sacramento bestemmie che io che sono nato a porto di salerno non ho mai sentito voi sapete quando si dice i portuali soggendo volgari io che sono nato in quell'ambiente certe bestemmie certe parolacce così a 60 anni non l'avevo mai sentite va bene quindi chi non crede al diavolo dovrebbe andare là a rendersi conto allora noi dobbiamo pregare questa sera per pino perché certamente lui c'ha tanti attacchi dentro e fuori no e perché queste persone sono tra le poche persone che veramente accolgono quelli che hanno tante sofferenze con dei risultati nel senso che con il tempo tante persone si sono liberate e infatti molti di questi che fanno i volontari sono persone che nel passato avevano ricevuto una fattura un maleficio oppure un loro parente caro una figlia un nipote e sono rimasti lì per aiutare sono come i tostici che una volta che sono riusciti a fare questo cammino di guarigione poi rimangono nei centri ad aiutare quelli che sono drogati quindi è molto importante il ministero ecco di pino io lo dico adesso che lui non è presente perché lui è molto umile è l'umiltà che lo salva perché effettivamente c'è uno che riceve tante persone a settimana potrebbe anche un po insuperbirsi ma lui veramente un uomo di dio molto umile poi c'ha tutte le qualità dei siciliani sapete che i siciliani hanno una marcia in più come come verso voi avete sposato un siciliano che dite così ecco allora se siciliani sono particolari particolari in gamba ecco perfetto battuta a parte ogni tanto faccio qualche battutina così come dire ci ci rilassiamo un po va bene allora affidiamoci agli angeli ripeto don giuliano qui ha messo se bellissime vetrate san raffaele san michel e san gabriele e tutti i santi che stanno qua barossa prusa lorenzo là che prima non ho citato ecco ci aiuteranno nel nostro cammino spirituale ecco volevo parlarvi dell'azione degli angeli custodi in quaresima però ripeto chi vuole approfondire ci sono i testi ok e allora era importante fare un elogio non di pino ma di un cristiano laico che cerca di servire i suoi fratelli sofferenti nella chiesa ecco preghiamo che a parte pino il signore possa suscitare anche altre persone perché questo è un ministero molto importante perché la gente soffre e non sono considerati anzi sono ridicolizzati sono considerati squilibrati matti e non ricevono nessun aiuto quindi vedete chi sta in un campo di concentramento nazista soffre molto di meno di chi oggi c'è una fattura un maleficio perché sono persone non considerate assolutamente purtroppo anche in tanti ambienti di chiesa non ci sta nessun aiuto ok è molto triste dire questo ma purtroppo è così ma attenzione anche i poveri preti che sono esorcisti a parte il fatto che sono pochi sono pure vecchi e tante volte ci hanno due tre parrocchi effettivamente tutti i preti dovrebbero essere esorcisti tutti che poi chi non si sente chiamato a farlo non lo fa mica puoi costringere uno che non si sente chiamato a farlo però tutti i preti dovrebbero essere esorcisti i preti ortodossi sono tutti esorcisti tutti da noi è diventato una casta nella casta dove chi è esorcista è penalizzato perché c'ha tanto di quel lavoro da fare che non ce la fa e la gente è penalizzata perché non trova aiuto ok quindi preghiamo perché si possa cambiare sta normativa cioè i vescovi dovrebbero dire chi non deve fare l'esorcista che magari è un prete un po particolare un poco strano eccetera eccetera ma non chi deve fare l'esorcista ci sono tante diocesi in italia che non ci sta nessun esorcista per cui le persone che hanno problemi devono andare ecco dall'esorcista di altre diocesi però il vescovo di quella diocese ha detto voi non dovete prendere esorcisti di altre diocesi allora vescovi che non nominano gli esorcisti e se tu vai in un'altra diocesi l'esorcista dice sentite mi dispiace non vi posso accogliere perché siete di un'altra diocesi ma anche perché lui non ce la fa quindi vedete ma qua veramente vogliamo aiutare la gente oppure vogliamo fare il soldetico al diavolo o vogliamo combattere sul diavolo sì o no ok e questo è il discorso quindi preghiamo perché ci siano più persone che abbiano questi carismi di liberazione di guarigione e di preghiera interiore grazie grazie grazie